Cosa si fa questo weekend? Sagre Doc è più sicuro in provincia di Macerata, se ne parla sabato 11 aprile alle 9 al Teatro Verdi di Pollenza. Sabato alle 9.30 nella sala consigliare del comune di Falerone, convegno per parlare di sana alimentazione, prevenzione, screening e terapia. Sabato alle 18.00 nella sede fermana di Italia Nostra, Massimo Gezzi presenta il suo nuovo libro Il numero dei vivi. Debutta domenica 12 aprile alle 17.00 nel Teatro Storico di Castel Raimondo la prima rassegna di teatro brillante dal nome Gustose Armonie con Tutto Shakespeare minuto per minuto. Pesaro, città della musica, attende domenica 12.00 alle 21.00 al Teatro Rossini il maestro Giovanni Allevi con Solo piano Love Tour. Domenica dalle 14.30 torna nelle vie e nelle piazze del Centro Storico di Tolentino Giochi, Briciole e Favole, un evento per tutta la famiglia. Domenica alle 18.30 Max Manfredi aprirà la rassegna Primavera non bussa con un concerto aperitivo nella cornice del chiostro di Palazzo Buonafede a Monte San Giusto, in cui presenterà al pubblico alcuni brani del suo ultimo lavoro Dremong.